Non solo giocatori di esperienza per l'Avellino di Bucaro, il direttore sportivo Carlo Musa ha sul proprio d'acquino anche i nomi di alcuni giovani di valore. Su tutti quello di Lorenzo Valò, classe 99, laterale sinistro che può giocare sia da terzino che da mezzala. Il calciatore nazionale Under-19, che nel recente passato è stato uno dei punti di forza della primavera della Roma, società che ne detiene il cartellino, in questa stagione ha indossato la maglia dell'Ascoli prima e del Catania successivamente in Serie C. Piace anche il classe 2000 Daniele Trasciani, sempre della Roma, e che ha giocato con il Cesena. Per quanto riguarda il centrocampo, salgono e non poco le quotazioni di Ivan Barone, l'ex Ternane Fondi, nella seconda parte della stagione ha giocato alla Carrarese. Piace molto al tecnico Bucaro, che lo vedrebbe perfetto per il proprio 4-3-3. Sul fronte partenze c'è un difensore, Nicolò Dondoni. Il calciatore piace molto alla San Benedettese.